Nuova ordinanza del comune di Agropoli riguardante la circolazione stradale e rientrante nell'ambito del grande progetto di risanamento ambientale dei corpi superficiali della provincia di Salerno, comparto numero 2 area calore testene a lento. Al fine di consentire i lavori sull'arterio urbano interessate, infatti, il comune agropolese ha emanato un'ordinanza che modifica la circolazione in determinate vie cittadine. A decorrere dal giorno 30 settembre e fino al 18 ottobre 2020 è vietata in modo permanente per tutta la durata dei predetti lavori di bitumazione della sede stradale la circolazione, la sosta e la fermata su ambo i lati per tutti i veicoli delle seguenti arterie urbane. Via Montessori, via Caravaggio, via Giotto, via Lanza, via Bonora, via San Felice, via Tiziano, via Monzo e via Kennedy. Nel periodo di durata dell'ordinanza, inoltre, sono sospesi tutti i dispositivi posti a regolamentazione della circolazione e della sosta nelle aree interessate.